La musica, il Festival Jazz a Cabras. Sinis Jazz Festival, questo è il nome delle due serate svoltesi presso la piazza principale di San Giovanni di Sinis a Cabras. Il Festival si è articolato in due appuntamenti con la partecipazione di artisti di fama internazionale. Durante la giornata di apertura hanno calcato la scena lo statunitense Michael Rosen e l'Alessandro Diliberto Trio, non numeroso come avrebbe meritato il pubblico presente. Meglio per le presenze degli spettatori è andata sabato quando si è esibito il francese Eric Truffazze, il suo quartetto. Personalità di indiscutibile talento e notorietà nel panorama gezzistico. L'evento è stato organizzato dal comune di Cabras, assessorato al turismo in collaborazione con l'associazione culturale Improvvisarte. All'interno del Festival musicale ha anche un'esposizione fotografica. Tra 15 fotografie scelte per la finale attraverso un concorso su Facebook ha vinto tramite la giuria popolare degli spettatori presenti al Festival Paolo Carta con lo scatto un tranquillo picnic a Isarutas. Il contenitore del Sinis Jets Festival ha comunque dimostrato che è possibile proporre due buone serate musicali anche in un periodo insolito per l'offerta turistica locale.